Da un sondaggio commissionato dalla Teramo Ambiente è emerso che i teramani vorrebbero una città più pulita, anche se hanno detto che molto dipende dall'inciviltà dei cittadini stessi. Noi faremo la parte nostra. La parte nostra vuol dire che noi compreremo, acquisteremo, cioè metteremo nel piano economico-finanziario del 2017 l'acquisto di due spazzatrici da altissima tecnologia, cioè le più moderne possibili. Ora entrerà in funzione anche una squadra per la pulizia manuale del centro storico, visto che con i cantieri che si dovrebbero approntare, ovviamente diventerà molto difficile fare la pulizia meccanizzata. Per la raccolta differenziata? Per la raccolta differenziata noi abbiamo varie proposte che sottoporremo, anche sperimentali, soprattutto nel centro storico, che proporremo all'amministrazione comunale a breve, anche perché devono essere poi messe nel piano economico-finanziario per il prossimo anno. Per quanto riguarda gli altri aspetti legati ai servizi erogati dall'ATEM, come ad esempio il ritiro degli ingombranti, oppure lo stesso porta a porta, avete avuto riscontri positivi da parte dei cittadini? Lei ci diceva anche inaspettati per certi versi. Il porta a porta ha un gradimento dell'oltre l'80%, quindi questo servizio sicuramente è fondamentale, anche per riuscire a tamponare tutte le problematiche che si presentano normalmente con la raccolta stradale, la vecchia raccolta stradale. Lei comunque è soddisfatto? Io sono soddisfatto, però noi, ripeto, faremo il sondaggio due volte all'anno, in modo tale che così si possa sentire il polso dei cittadini di Teramo, che sono tra l'altro coloro che pagano la tassa. Dal sondaggio è emerso che bisogna pulire di più la città? Sì, ma i cittadini mi trovano pienamente d'accordo, cioè bisogna concentrarsi di più sulla pulizia della città. E' l'unico dato, se così possiamo dire, meno positivo degli altri, però è un dato che io ho sottolineato più volte alla Teramo Ambiente. Maggiore attenzione alla pulizia e al decoro della città. Questo per quanto riguarda le competenze della Teamo, ovviamente, non per tutto quanto il resto. Sulla raccolta differenziata mi fa piacere che i cittadini hanno gradito il fatto di aver riportato a tre volte nel periodo estivo la raccolta dell'organico. Era una cosa, una richiesta specifica del sindaco e dell'amministrazione che è stata accolta dalla Teamo e che ha avuto, come dire, ampia soddisfazione da parte dei cittadini. La raccolta differenziata va bene, gli altri servizi offerti funzionano, però, ripeto, sulla pulizia mi trova pienamente d'accordo il sondaggio, i cittadini. La Teamo si deve concentrare di più sulla pulizia.